Eeeh, bella a tutti ragazzi, io sono CD17 e oggi vi do il prossimo episodio di Info Time Ok ragazzi, benvenuti su questo titolo, oggi vorrei parlare di alcune cose normali Allora, ve lo faccio anche semplice così voi capite, mentre io spiego Parlo anche piano così capite meglio Allora, visto che fate, tutti i Netflix che porto sul mio canale YouTube sono finiti Ok, tranne, quindi tutti i Netflix sono tutti, tutti, tutti finiti Tranne, tranne, eh, sto pensando allora, tranne F1 e Lights Che voi dovreste, dovreste vedere il video lunedì alle ore 18 Penso perché c'è le 14 la gara domani, domenica Eeeh, per oggi è sabato Quindi domani c'è la gara, però io non so perché farei anche i compiti C'è le 14, c'è la, non so perché, uscirò un pezzo a vederla E un pezzo dove averlo di sera Quindi ragazzi, o vedete il video sabato, o vedete il video lunedì, o vedete il video martedì Uno dei giorni, martedì, lunedì o martedì alle ore 18, vedrete il video di Formula Highlights Che poi fanno loro a Lights lo stesso video perché è l'ultima gara del mondiale 2021 E che quindi finirò fino a marzo Vedrò poi, se Carlo ci ha dato del nuovo, del prossimo gran premio Comunque, e quindi F1 Lights, contatelo finito perché lo finisco Quando faccio il video, poi faccio il video e poi è come se fosse finito A Tresplay, Fortnite non finirà mai finché non sparisce il Fortnite Finché Fortnite non sparisce non finirà mai il XP di Fortnite Ok, e oltre a Fortnite e oltre a, ok Poi, beh, infotime, quando devi dare nuove info, infotime, ok Devo farvelo per forti, che ve lo dico Come adesso, il XP continuerà non so fino a quando perché Infotime continuerà a essere hashtag fino a hashtag 321 Chissà Non lo so, finché, ma allora, perché Un anno non farò hashtag uno perché Faccio pochi infotime al mese Uno al mese magari Comunque Continuerà Fortnite, infotime, più Il Allora ragazzi, vi spiego allora Perché io capodanno non so Perché io Non so perché Io so Ah, io si spiego Io per capodanno Io capodanno devo Preccare un video Devo fare un video Devo registrare un video Non so se lungo o corto Ok No spoiler No spoiler Però Provate al mio video Faccio a capodanno Nei commenti Quindi Il 31 Che poi voi lo vedete L'1 Immagino Però io ho Anche a vedere con i miei genitori Il video Cioè La Eca a capodanno Quindi non so se voi Cioè Comunque ragazzi E A Gennaio Non so che giorno Verete il video di Fort Eh Di Quanto se 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 perché nasce che continuerà in forza intera più a dicembre ripeto dopo il capodanno però dicembre e che è così che nel youtube sempre gennaio non so che video non so che giorno il giorno dopo a del capodanno deve rispondere capodanno che crona una una un nuovo let's play come già detto tempo fa e anche per il spi nuovo provate ad indovinare nei commenti e niente questo info time detto tutto qua quindi ripeteremo il replay che continuerò e finalize ancora per un video le spi che ci continuerò per molto saranno a parte finalize fortnite info time più in un let's play che poterò a gennaio ragazzi video finito qua non penso di avermi dimenticato nulla quindi ci salutiamo spero che questo video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto grazie mi raccomando mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale attivate la campanella e seguitevi su instagram che ho la cd un bacione e la vostra cd è tutto bella cazzoli ciao ciao